Il 4 pilastri di ogni relazione Ormai avete capito che siamo degli esseri di relazione e non possiamo scappare da questo Soddisfatti o ricorsati? Nel senso che tutta la nostra vita è una relazione Già al mattino appena aprite gli occhi vi trovate con voi stessi Che lo vogliate o no appena aprite gli occhi entrate subito in relazione con voi stessi Con la stanchezza o con la gioia o con l'incubo che è avuto di notte o con la visione bella Tutti i giorni appena ci svegliamo Appena ci svegliamo entriamo in relazione Ed è in base alle relazioni che ci giocheremo la felicità della nostra vita La fecondità della nostra vita Quindi è importantissimo Abbiamo visto che Che c'è un nemico E che ci sono questi 4 punti Insomma perdono, rispetto, buonità e amore Che possono proteggere ogni relazione Guarda caso ho letto proprio oggi Quello che mercoledì scorso aveva detto il Papa All'Unienza Generale Sta parlando della famiglia Le tre parole che conoscete Permesso? Grazie Scusa E diceva solamente attraverso questo Si riesce a conservare L'ha detto anche lui Andate a prendervi sede Riuscite a conservare la relazione Perché se viene a mancare Inizia a affersarsi delle crepe E tutto si sgretola Lui ha parlato di scretolarsi E qui invece il Signore Ha parlato appunto di essere distrutti Ma è la stessa cosa Ha detto che bello Quando mi sento in comunione Con la Chiesa Anche con il Papa Che sta in qualche modo detto Le stesse cose Con quel permesso Scusa Grazie Quindi con questo rispetto Con il continuare A chiedersi scusa Perdono E con questo appunto Entrare in una buona relazione con l'altro Proprio l'interenziato di lui Ognuna di queste quattro Abbiamo detto che è una croce Mi state accorgendolo Quando chiedete Ma qual è la mia croce? Questa Questa è veramente la croce E anche il Papa ha detto la stessa cosa Che non è facile Ha detto Non è facile Perché? Perché è croce appunto Perché significa rinnegare La nostra mente naturale Che non perdonerebbe Che cercherebbe di essere egoista E di non rispettare gli altri Che cercherebbe Che lo vediamo di non stare in unità E che sicuramente Non ha l'istinto di amare Ma ha piuttosto l'istinto di prendere Questa sera guardiamo quindi Quarta tappa Guardiamo il terzo pilastro Il terzo fuoco Per tenere distante il nemico E per mantenere Vive le relazioni Questa tappa è l'unità Partiamo con il fatto che L'unità è un desiderio di Dio È un desiderio di Dio Giovanni 17, 20, 23 Una cosiddetta anche preghiera Sacerdotale Che fece Qualche giorno prima Di lasciarci il bene Disse Non prego solo per questi Che erano i discepoli Allora presenti Ma anche per quelli Che per la loro parola Crederanno in me E siamo noi Noi abbiamo iniziato a credere Una parola per la mano Perché Ascoltate bene Tutti siano Una sola cosa Preghiera di Gesù Tutti siano Una cosa sola Come tu padre Sei in me E io in te Siano anch'essi In noi Una cosa sola Seconda volta Perché il mondo Crede che tu mi hai mandato E la gloria Che tu hai data a me Io l'ho data loro Perché Siano Come noi Una cosa sola Quanto loro Io in loro Tu in me Perché siano Perfetti Nell'unità E il mondo Sappia che tu mi hai mandato E li hai amati Come hai amato me Che bello Ritro 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 Quella rigoretta Che sono andato L'amuseano Quindi Da una parte o dall'altra Il Signore continua a essere Anche nella liturgia Ci sta accompagnando Non è vera questa cosa Mentre La leggevo Questo desiderio di Dio Che ci guarda E che dice Voglio che sperimentiate La stessa unità Che io sperimento col padre Accogliete me Diventate in unità con me Diventate in unità fra di voi Io sono in unità col padre C'è anche lo Spirito Santo Quindi siamo con voi Quindi C'è tutto il cielo In mezzo a noi Nel nostro cuore E il fortissimo desiderio di Dio Che ci sia questa Unità In Osea Addirittura Chiama il suo popolo La chiama La sua sposa E uno sposo Una sposa Dice I due diventeranno Una carne sola Una cosa sola Ci raffigura così anche Vuole che Diventiamo veramente Uno con lui Uno con lui Se ci chiama la sposa Noi sappiamo che La sposa e la sposa Diventano uno Quindi se ci chiama la sposa Lui sa E desidera Che diventiamo Uno con lui Ci sente E Va Va quasi oltre Quello che riusciamo Ad affermare Ma è grandissima Questa cosa Che siano uno Che siano uno Come io e te Padre siamo Questa grande Unità con Dio Ecco Io faccio le cose Che ve lo farà Il padre Misse Gesù Tammentre L'unità E anche noi Dovremmo arrivare Ad agire Ogni momento Nell'unità In Dio Quindi Se un desiderio Di Dio Una cosa vuole Uniti Nella diversità Questa E' una cosa Che dobbiamo imparare Per non perderci troppo Agonitate Unità Nella diversità Non uniformità E questo E' molto importante Ho fatto il militare Se qualcuno di voi Ha fatto il militare Ha indossato Che cosa Uniforme Cioè Ti rende Uguale a tutti gli altri Uniforme Uno Ti guardavi Se non era la faccia Tutto il resto Io era la prima fila Per quelle più piccole E poi gli altri L'hanno dietro Quello Non mi sono uniformato Con gli altri Per quella altruzza Però c'era questa uniforme Invece nel cristianesimo Non c'è l'uniformità C'è L'unità E' una cosa diversa Unità Nella Diversità Ma anche fra mani Tue moglie Anzi Di proprio Maschio e femmine Sono completamente diversi Ma per essere Per essere uno Anche nella sessualità Se volete C'è questa Diversità Per diventare Uno Quindi Vediamo proprio Questa creazione di Dio Ognuno quindi resta Se stesso Certo Nell'essere Nella conversione Nel cambiamento Che avviene tutti i giorni Quello sicuramente Ma comunque Se sei se stesso Non devi essere Un altro Anzi Viene il fallimento Della tua vita Se cerchi di essere Qualcun altro Il mondo intanto Tante volte ci chiede Dovresti essere come questo Dovresti essere come quello là Dovresti essere Invece il Dio ti dice No Così come sei Cammina con me E c'è il tuo posto C'è il tuo posto Unità Nella diversità Prima Corinthians Versi 12 12-4-7 Infatti dice Vi sono diversità di carismi Ma uno solo È lo Spirito Vi sono diversità di ministeri Ma uno solo è il Signore Vi sono diversità di operazioni Ma uno solo è Dio Che opera Tutto In tutti Vedete Questa continua Un solo Dio Ma con tanti Carismi Un solo Signore Con tanti ministeri Un solo Signore Che agisce attraverso tutti Per un fine solo La salvezza Di tutti gli uomini Infatti La cosa più terribile Tra i cristiani È il dito Contanto che abbiamo Gli unico gli altri È questo qui È quello là Hai visto Gli evangelici Non credono nella Madonna Hai visto Quell'altro gruppo Non è questo Non è quell'altro Eh Vi ricordate Che gli scecoli Dissero a Gesù Abbiamo visto uno Che scacciava i demoni E l'abbiamo impedito Bravi Gli disse Cosa hai pensato Di essere dell'elite Gli disse Se l'ha fatto nel mio nome Lasciatelo fare Nessuno può essere Contro di me Se porta avanti Quindi gli disse Chiaramente Non siate gelosi Gli uni degli altri Mica avete la grazia Solo voi Già ai tempi di Mosè C'era stato Giosuè Che era corso da Mosè Che aveva invocato Eh Era sceso lo spirito Diciamo che Gli aveva Diviso lo del suo spirito Sui settanta Su No Quanti erano Forse Erano parecchi Una settantina E già allora E arrivò Giosuè Che disse Guarda ci sono Edade Medade Che sono là fuori E stanno profetizzando E lui gli dice Ma Dio volesse Che tutti diventassero profeti Come che poi è avvenuta Al Pentecoste Se non è geloso Dio Se non so io Perché lo devi essere tu Se qualcun altro Sta andando profezi La diversità Dio può inventarsi Dio può inventarsi Di tutto Dio può inventarsi Di tutto Se c'è un'apparizione mariana Benvenga quello Se c'è una manifestazione Del cuore di Gesù Benvenga Se ci sono movimenti carismatici Benvenga Se ci è il cielo Le oggette come l'ari Se c'è Qualunque cosa Gloria a Dio Attraverso l'arte L'arte Che bello Dio si manifesta Attraverso la musica Che bello Attraverso il silenzio Che fa la remita Che bello La diversità Ma Nell'unità Dio dà Carisi Doni Per Un fine solo Per il bene Dell'essere umano Per la sua salvezza Amin Questo è da riconoscere Non ci sarà mai Un movimento Un gruppo Una chiesa Perfetti Non ci saranno Mai E' solo nella completezza Che c'è la completezza Della salvezza Anzi Penso che In questi tempi Dio abbia diversificato Tantissimo I suoi ministeri Proprio perché C'è un'esigenza Rammente grande Il mondo Sta attaccando Moltissimo Quindi Dio sta Cercando Mille vie Mille modi Mille carismi Mille manifestazioni Esperienze Per Per andare a liberare A tutti Non è più il momento Mi aveva dato questa visione Non è più il momento Dell'esercito Come era una volta C'era solo la parrocchia E basta In questo momento Per attaccare il nemico È come se ci fossero Tanti corpi speciali C'è questo movimento C'è l'altro C'è quella persona C'è l'arte C'è tanti modi Per riuscire ad attaccare il nemico Per salvare le persone Mi piace questa visione Cerchiamo di legge A livello mondiale A livello mondiale Ma tanti Per uno A ciascuno A ciascuno C'è uno Viene data una manifestazione Ma per cosa Per lo stesso No Di nuovo per l'unità Per l'utilità comune Il nostro Dio di fatti è Uno È un Dio Non fatto di tre Ma è un Dio Uno Di tre persone È molto bella questa cosa È uno solo Ha fatto Di tre persone Una galassia È fatta Da tanti pianeti Una famiglia Da più persone Ma è Una famiglia Ma da più persone diverse Una relazione Avviene con persone diverse Una chiesa È fatta Di tanti doni C'è il sacerdote Ma non è lui l'unico Se non ci fossero i parrucchiani E nei parrucchiani C'è chi fa una cosa Chi fa l'altra C'è Ogni cosa Da parrocchia È una Fatta da Sacerdote Parrucchiani Vedete che quindi Questo principio Proprio scritto Nell'universo Una galassia Tanti pianeti Una famiglia Tante persone Uno Dio Tre persone Lo state tranne Perché c'è una visione E c'è un nemico Che cerca appunto Di Dividere E quando divide Non c'è uno Che ha vinto In una coppia Se si divide Hanno perso Anzi Proprio Ieri Diceva Che poi Ne fanno La spesa I figli Se i due Litigano I figli La pagano L'ha detto Molto chiaro Ieri Ha detto Non usate I figli Per fare Niente L'uno All'altro Non sia così Già dice La situazione Non è facile Infatti Non ha incolbato Nessuno È molto bello Leggete La cosa La cosa Di ieri Ha detto Già La situazione È difficile E quindi Si percepisce Questa grande Soltarenza Questa difficoltà De rimanere Uno In questo momento Anche perché Non c'è niente Una preparazione Al matrimonio Diciamo C'era Molti E dice Poi c'è la divisione E chi ci perde Non solo i due Ma anche Ma anche altri Che poi Che poi ci soffrono Avevano già letto La superbia Si preoccupa Di chi ha ragione L'umiltà Si preoccupa Di che cosa Sia giusto Di che cosa Sia giusto L'immagine Che avevo messo L'hai visto L'arcobaleno È uno Fatto Se volete Di sette colori Che cosa Che fa l'arcobaleno Di sette colori Quindi vedete Che c'è sempre Nella diversità Ogni colore È diverso dall'altro Ma in quello Divenne Una bellezza Se volete L'orchestra È fatta lì La squadra di calcio Come ieri sera Ha vinto Contro un'altra squadra Vabbè Tra la squadra È fatta lì Che tanti calciatori C'è un portiere Ci sono i difensori Centrocarpisti Attaccati L'unità È indispensabile Per la salute E la vittoria Noi siamo Degli individui Ve l'avevo già detto Non mi ricordo Ognuno Dove si dice Quell'individuo Cosa significa La parola Individuo Indiviso Non dovrebbe essere Diviso Prima Prima Tessalocese 523 Dice Chio della pace Vi santifichi Fino alla perfezione Tutto quello che è vostro Spirito Animo E corpo Noi siamo spirito Siamo psiche E siamo corpo Qualcuno dice Noi siamo spirito Abbiamo Una psiche E viviamo In un corpo Dice Tutto questo Si conserva Irrepressibile Quindi non una parte Ma Tutto Le tre parti In questo momento Se mi vedete Che cammino È perché la mente L'ha pensato E se sono qua Perché lo spirito Mi ha portato qua C'è una Unità Nell'unità Si sta bene Nella divisione Si sta male La prima unità Che dovremmo avere Siamo noi Quando ci facciamo Sessioni di croce Vogliamo congiungere La mente Col cuore Anche con la volontà Perché se c'è Unità Si sta bene Ed è nell'unità Che il signore Risponde Le nostre preghiere Perché tante preghiere Non vengono esaltite Perché c'è uno Che ci mette Solo emozioni Ma non Non ci mette testa L'altro Che saprebbe tutto Ma magari Non ha cuore E non riesce Invece quando C'è questa unità Dentro di noi Nella preghiera Quella preghiera Viene esaltita Cielo e terra Si toccano Assieme Quando mente e cuore Sono allineati Cielo e terra Si toccano Come sia fatta La tua volontà Come in cielo Così in terra Ci sia questa unità Noi riusciamo ad attirare La volontà buona di Dio Appunto Quando c'è Questa unità Spirito Andi me corpus Conservi Irrepresi Perfetto Marco 3 24 Se un regno È diviso In se stesso Quel regno Non può Reggersi Solo questa frase Ci dice Quanto è importante L'unità Questa frase La disse Quando Quando lo accusarono Di cacciare i demoni Attraverso La potenza Di Perzebù E lui disse Ma scusate Ragionate un attimo Se io lavorassi Per il diavolo E cacciassi il diavolo E mi Mi pesterei la coda da sola Mi darei la martellata da sola Cioè Disse Un regno Diviso in se stesso Non può rimanere in pieni E se volete Ognuno di voi Io Ognuno di noi È già Un regno Perché ci sono delle regole Dentro di te Nella famiglia La famiglia è È un regno Nella quale ci sono delle regole Nel gruppo di preghiera È un regno Con delle regole Il posto di lavoro È un regno Con delle regole La chiesa È un regno Con delle regole Ogni cosa È un regno Con le sue regole Se un regno È diviso in se stesso Quel regno Non può reggere Quindi è salutare Che noi Iniziamo a Permettere allo Spirito Santo Di ricreare unità Ricreare unità Dentro di noi Cosa significa? Che tante volte Siamo divisi Le emozioni vanno in un modo Pensare con un'altra cosa Ricordate San Paolo Che dice Vorrei fare bene E poi Faccio male Dentro di me Ci sono due leggi Che si combattono Vorrei una cosa Ma poi vado dall'altra Faccio anche quello Che non capisco In quel momento Era infresi fortissima Perché? Perché c'era stata La conversione Dopo la conversione C'è tutto un processo Di unificazione Perché quando Si è nepplicato Si è divisi Cioè E lo Spirito Non lo ascolti più Ci sono solo Le ferite Ci sono solo I piaceri Ci sono solo I sentimenti Quindi dopo la conversione I due devono Rialinearsi Uno è andato Per conto suo E quindi Deve ritrovare Pacificarsi Ritrovare L'unità Noi siamo fatti così Anche se Nello specchio Vediamo solo I capelli che diventano Bianchi O vediamo Le rughe O si vedono I brufoli O Però dietro Tutto C'è una psiche E più dentro Ancora c'è Lo Spirito E per stare bene Nella psiche E insomma Devono essere In unità Allineate Dopo la conversione Il Signore inizia A Rialineare Rialineare Più a piano Portando delle guarigioni Di cuore Allottanando da noi Degli spiriti Pure Facendo sì Che tutte le cose Si Si rimettano In ordine Con una grazia In ordine Tutto funziona Se c'è del disordine Si possono scontrare E non c'è più Non c'è più salute Non c'è più bellezza C'è Caos La divisione Caos Unità E cosmo Ci siete? Perché Lo viviamo Dentro L'arrabbiatura Anche con te stesso Il non perdonarti Il non accettare Certe cose Significa Divisione Ecco la preghiera Di prima Se lo stavo Cercando di Riaccogli 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 La tua storia Riaccogli Ti stesso Riaccogli Il tuo corpo Quando ho fatto Parante giorni Da padre Gasparino Mi ricordo Che mi metteva Un'ora mattina Un'ora pomeriggio A zappare la terra A verniciare Mi fa tutto Dovrei denunciarlo Perché mi ha ascoltato Senza darmi neanche i contributi Sì Non so E mi disse Fallo Poi mi ha detto Fallo anche in modo gioioso In modo che tutti Arrabbiat Facifici anche con la terra Perché noi siamo Se volete Siamo terra Ada Terra Terricio E quindi abbiamo bisogno Molte volte Perché si fa dello sport Unitanto Perché c'è Un'obbina a fare Perché Non è bello Se vi mettete A camminare Pieni nudi In un posto Sull'erba Perché arriviamo da lì Abbiamo bisogno Allora Pacificatevi con questa parte Ragazzi Tenete sempre una parte Oltre a tutta la tecnologia Che va a lavorarselo sulla Il corpo prima Poi si ribella Se non fate qualcosa di pratico Fatelo Perché mantiene tutto Altrimenti tra qualche anno La pagherete Quello Quando il bambino Passa troppo tempo Tutto sulla mente E poi non fa più nulla Di gioco Di cose semplici Si sta già spallando C'è già una disunità Dentro di lui Il diavolo sta già lavorando C'è la magloria Apolo ne aveva parlato Di questa cosa Che attraverso i giochini Spallava proprio Perché va a mancare Una delle tre parti In unità Lo state a fare Al corsaggio Vedendo Io riuscivo quindi A fare delle cose pratiche Bisogna prendersi Cura del corpo Cose pratiche Cura della mente Anche il riposo E cura dello spirito Con la preghiera Se le tre parti Vengono mantenute bene C'è questa unità E quindi c'è Salute C'è salute E' indispensabile Beh Se un regno è diviso in se stesso Quel regno non può reggersi Andiamo oggi adesso Una visione unica Marito e moglie Iniziano a litigare Perché non hanno una Visione unica E dovremmo fare così Per i figli No? Dovremmo fare così No? Così? No? Così? Si inizia a litigare C'è Di visione Non c'è più vittoria Ci va una visione unica La visione unica Ci avrebbe Dei posti di lavoro Quando tutti lavorano Per quella visione Per quell'obiettivo Per quel traguardo Funziona Quando una famiglia Va nella stessa Nella stessa direzione C'è unità Difatti una delle cose Quando incontrerete Un ragazzo Una ragazza Scuola di sopravvivenza Anzi Scuola di sabienza Per i ragazzi Va bene Dopo quel primo quarto d'ora Che avete visto Tutte le curve E tutto il resto Perché partiamo dal fondo Non posso di partire Dovremmo partire dallo spirito Cioè C'è la parte fisica L'attrazione C'è la parte psichica E' simpatica Non simpatica Parla molto Parla poco E poi c'è la parte Nello spirito L'obiettivo Che poi è quello più importante Perché dopo 3, 4, 5 anni Se tu non stai andando Nello stesso senso Ti ritrovi lì E dici Mamma Dove che stavo andando Cioè una famiglia Dovrebbe essere unita Anche in questo I due dovrebbero conoscersi Che cosa vorresti Nella vita Qual è l'obiettivo Qual è la vision Della tua vita Se le due corrispondono Allora vedi Se a livello psichico Riesci ad andare E se a livello Che poi fisico Ti metti insieme Chi di voi si è sposato Forse si è accorto dopo Che la vision Forse è Ed è molto importante Perché se la vision Non è uguale C'è già una disunità Ed è difficile Andare A rimanere In unità Con uno che vuole Completamente un'altra cosa Forse qualcuno L'ha sperimentato Ecco perché Bisogna fare Il discernimento E avere chiaro Questa cosa Che una famiglia Legge in sé Se va con un obiettivo uguale Infatti La battuta La battuta La saggezza popolare Che dice Una certa unità C'è avere un po' Una visione uguale Non è legge Quella Non è legge Ma In qualcosa C'è una saggezza Nel senso Che se l'altro È completamente Ti può piacere A livello fisico Ti può piacere Un attimo Cos'è in simpatia Ma dopo sei mesi Dopo un anno Dopo due Vedi che puoi andare Tutto da un'altra parte Non gli importa niente Di avere figli Tu invece volevi figli È un disastro È un disastro Nullità matrimoniale Proprio per quello Perché uno sperava L'altro proprio non li voleva Non se lo sono detti prima Uno dei due ha tenuto nascosto Qui dice Nullità matrimoniale Perché quello non voleva figli Visione diversa Ecco che Viviamo Entra Completamente La relazione Non può leggere Se non si va Nella stessa direzione Un gruppo di preghiera Quando Quando tutti vogliono Dire la sua Si spaccia Perché? Perché poi subentrano L'odio Uno vuole una parte Invece se tutti si va Nella stessa visione Nella stessa parte C'è una parola profetica Che guida Anni fa L'Avanzeratore Martini Diceva Dove manca la profezia Manca la grazia di Dio Anche le nostre parrocchie Dovrebbero avere Una profezia C'è una parola guida Dove tutti i parrocchiani Dove tutti Vanno dietro Se tutti si va dietro Quella parola c'è unità Se c'è unità C'è Dio Ecco che quindi Dobbiamo imparare questa cosa Dell'unità Questo per il lavoro Questo per la famiglia Questo per qualunque cosa Se non vai nella stessa direzione Non Il regno Dice Diviso in se stesso Quel regno Non potrà reggersi Si spascia la famiglia Si spascia il gruppo Si spascia il lavoro Si spascia Si spascia Si spascia Non state quindi vedendo Il punto dell'unità Quanto è importante Per la salute Per la vittoria Per Immaginatevi ad esempio I cani da sveglia Immaginatevi ad esempio Che suonano tutti Che suonano tutti Uno a un certo punto Mettesse sotto A suonare qualcos'altro Suonerà benissimo anche Magari questa è la La persona migliore A livello musicale Ma se suona un'altra cosa Senti che c'è una Una stonatura Eppure suonano tutti bene Ma non stanno suonando La stessa sinfonia La stessa cosa E già questi esempi Dovrebbero farci capire Quanto l'unità E' importante Una squadra non vince Se una persona E' forte Ma se c'è Se c'è unità Se c'è appunto questo Giocare E unico gli altri Ve lo faccio Velocemente questo Cosa fa l'unità? Qualcuno diceva L'unità fa Da un lato è un po' giusto Ma è anche parecchio sbagliato Perché l'unità La fa Dio E l'unità fa Dio L'unità non la possiamo fare noi E' un dono di Dio E' un dono di Dio Infatti San Paolo dirà Conservate il vincolo Dell'unità con la pace Dei cuori Ma l'unità La fa solo Dio Quindi l'unità Non fa la forza Come si dice Perché ad esempio La torre di Vabene Hanno cercato di fare unità Avevano un progetto solo Ma era un progetto orgoglioso Non voglio perdere tempo su questo Perché guardiamo le cose Da stare a guardare Ma se due si mettono assieme Per diventare l'altro Iper Non è più l'unità in Dio C'è un'unità Che fa la forza in quel momento Ma prima o poi Salta Perché non viene da Dio Perché il male Non è male Colui che unisce Ma colui Che li mette assieme Per fare il peccato Ma non per Le cose di Dio E quindi prima o poi Quella cosa si sfascia Quindi Diciamo Cosa fa l'unità? L'unità Accordarsi Unità Il padre mio Che nei cieli Vedrà Non cederà Perché dove Due o tre sono Riuniti Nel mio nome Io sono In mezzo Vedete L'unità Come facciamo A ottenere qualcosa Se ci sono Delle Se tra marito e moia Stanno litigando Non possono Accordarsi Non possono chiedere Non otterranno Niente Quando è di nuovo Che ho incontrato Una coppia Lo scorso giovedì Che erano finanziati Che sono passati Una volta sola Che erano di passaggio E che si vengono Sposati lo scorso anno Da 5-6 anni Che sono fidanzati E ho detto Ma pregate Insieme E E' un classico Mi guardano così Si guardano un po' Con la colla Dell'occhio E Mi ha detto Imparate adesso Perché dopo Ci sarà la sfida Mi ha detto All'inizio Avrete Ci sarà anche vergogna Guardate che Pregare in due Fra marito e moia C'è vergogna Mi ha detto Si fa Si fa più velocemente L'amore Che non la preghiamo Assieme Fra due Verso Perché una è più vera L'altra Lo possono fare Anche in animale Ma la preghiera No Perché la preghiera Tira fuori il cuore E rende Presente Dio Ecco perché Il diavolo Non vuole Che ci sia Unità Ci siete Solo dove c'è Unità C'è La vera Presenza Di Dio Se nella tua Parrocchia Ma non c'è lo scambio Della pace Vedi quello che guardi Dall'altra parte Come fa a salire La presenza di Dio Come fa Di sempre La presenza di Dio Nell'Eucaristia c'è Ma non di Dio Ecclesiale Non a livello Di corpo Di Cristo E oltretutto Dice Se tu vai a prendere Dall'Eucaristia Con questo sentimento Del cuore Di divisione Diventa Il giudizio Di cordana Ecco perché Tanti fra voi Sono malati Dice Giacomo Mi sembra Perché c'è questa cosa Perché l'Eucaristia Posso riportare guarigione Trova la divisione E scende la cordana E non c'è più La guarigione Che c'è nell'Eucaristia Non c'è unità Il regno E diviso in se stesso Invece nell'unità Dove due o tre Sono uniti Io Sono In mezzo Allora Ricordate Maritimonia Che Siete una Forza Assieme Ma una forza Perché Perché c'è Dio In mezzo a voi Se pregate Se non c'è preghiera Se è un singolo Un altro effetto Dell'unità Fa manifestare La gloria di Dio Se leggete Seconda cronaca 5 Capitolo 5 La serie Unici seguenti Dice che Salomone Riunì tutti i musicisti Cattori Fece entrare nel tempio C'erano anche i sacerdoti Le viti Iniziarono Tutti a Suonare Cantare Dice Assieme E Cridano Cantavano Perché il Signore è buono E la sua grazia Dora sempre Dice Iniziano tutti all'unisolo A cantare Tutti all'unisolo Quindi Come una coralla Che canta tutti assieme Cuore vito E dice che La gloria di Dio Scese Nel tempio Leggete Molto bene Scese così tanto A sua presenza Che i sacerdoti Lo etero Uscire Non riuscivano a stare Talmente c'era La dossa Si dice La manifestazione Della gloria di Dio O la cavota Che manifesta La cadosha Che sarebbe La santità di Dio A peso La cavota Quando si Entra in unità Questa santità di Dio Si manifesta Con la cavota Con questo peso Con questa grazia In mezzo Talmente c'era Questa cavota Questo peso di Dio Questa gloria Che i sacerdoti Non riuscivano più a starci Questo dovrebbe Alvenire E' meglio di O la smetti O te ne vai Perché questo Diventa una radice Velenosa Che poi Vedete anche Nelle compagnie Come una Ragazza Una ragazza Che arriva Che inizialmente Nelle mosche Vorte Rovina tutto L'uvento Rovina la bellezza Delle relazioni Porta divisione Attenzione A quelli che Portano divisione Attenzione A quelli che Quando Iniziano Sì ma Sì ma quello là Ti vorrà Veramente Bene Ma è così Ma di qua Ma di là Quelli che Entrano E hanno sempre Una critica Hanno sempre Una murmurazione Sempre Queste sono le mosche Molte Malate Da E le guardate E vi dite O cambi O te ne vai Non entrate Nel giochino Di quella persona Che c'è sempre Qualcosa Con qualcun altro Se vuoi Un posto religioso Si diverte Perché Un gruppo Una parrocchia Manifesta La gloria di Dio Un mondo Grande Quindi questo Arriverà E cercherà Di mettere Zizania Attira E c'è ancora Questo Atti 2.1 Attira Lo spirito santo Mentre il giorno Di pentecoste Stava per finire Si trovavano Tutti Insieme Nello stesso luogo Tutti Quindi Nessuno escluso Come erano? Insieme E dove erano? Nello stesso luogo Dice proprio L'unità Tutti Insieme Nello stesso luogo Allora Avvenne la pentecoste Allora Lo spirito santo Si manifestò Allora Nella tua famiglia Può manifestarsi Questa presenza Guarente Dello spirito santo Se tutti Assieme Nello stesso luogo Prego Allora La grazia di Dio C'è Attira Lo spirito santo Porta guarigione Nella prima guarigione Atti 3.4.6 E poi seguenti Dice Pietro fissò lo sguardo su di lui Sullo storpio della portabella Ve lo ricordate? Pietro e Giovanni Salivano C'era questo storpio E ascoltate bene Dice Salivano Pietro fissò lo sguardo su di lui Insieme a Giovanni Non fu da solo Non fece carismatico Io Ma stava salendo Insieme a Giovanni E disse Guarda verso di noi Non guardaremente Io c'ho il carisma Di guarigione Dice Pietro Ma guarda A noi Lì erano i due Era una chiesa Insieme alla chiesa Disse Guarda la chiesa Perché attraverso di noi Si manifesta La gloria di Dio Egli si volse verso di loro Questa unità Aspettandosi di ricevere qualcosa Ma Pietro gli disse Non possiedono Neuor e un argento Ma quello che ho Te lo dono nel nome di Gesù Alza Dice Il primo miracolo È avvenuto grazie All'unità Molti miracoli Avvengono Se noi siamo Uniti 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 Perché c'è La presenza Di Dio Porta crescita Umano Spirituale Efesini 4 Versetti 1 2 E 13 Vi esotto dunque Io Il prigioniero del Signore A comportarmi In maniera degna Della vocazione Che avete ricevuto Con ogni unità Manso e tudine E paziente Agli Efesini Scrive Sopportandovi a vicenda Con amore Quindi già allora Le comunità Crisbattie Erano Fatte di Varie persone E a quanto pare Quando ci sono due o tre persone Vengono fuori i caratteri Di tutti Quindi diceva Sopportandovi a vicenda Con amore Ma quando entri in un gruppo Dovrebbe essere tutto Tutto sano Tutto 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 No Si prega Ma continuiamo A essere umani Gli spingoli Dio non te li toglie Con il miracolo Te li toglie Con i fratelli E le sorelle Te li metti vicino E tu pungi E l'altro pungi E allora Pian piano O O O Continui a pungere Prima o poi Ammazzi qualcuno Oppure Pian piano Vieni smussato Sopportandovi a vicenda Con amore Cercando Di conservare L'unità Dello spirito Per mezzo Del vincolo Della pace Vedete L'unità Cercate di mantenere unità Perché gli dice Quello E così ci sarà La grazia di Dio Mantenete la pace Gli uni con gli altri Allora Lo spirito Riuscirà a creare unità Allora Dio sarà con voi Allora Dio Inserirà Allora Dio Guarirà Ma se non c'è unità Se non c'è unità Non c'è grazia di Dio Non c'è crescita E continuo dicendo Finché arriviamo tutti All'unità Della fe Della conoscenza Del figlio di Dio Allo stato Di uomo Perfetto Dice Vedete Se c'è unità C'è una crescita Spirituale Umana E c'è Continua A circolare La grazia di Dio E' normale Che ci siano Delle gelosie Anche in mezzo a noi E' normale E' normale Che ci siano E' diabolico Lasciarla agire E' divino Lavorarci Dio non ci chiede Diventa perfetto Ed entra in una unità No Entra in una unità E diventerai Perfetto Come dice qua Fino Che arriviamo All'unità della fede Della conoscenza Del figlio di Dio Allo stato Di uomo Perfetto Ci mette assieme Inizia a chiederti Camminando con i fratelli E le sorelle Inizia a non più Essere geloso Inizia a guardare l'alto Inizia a non affrontarti In quel modo Conservi Con questa pace C'è l'unità E c'è la grazia di Dio Ma anche fra marito e voglia Diversi sacerdoti Hanno detto E' più santificante Essere marito e voglia Che con sacerdote Per quanto riguarda La relazione Perché voi Vi incontrate sempre Vi scontrate sempre Noi possiamo Anche un po' scappare Unità L'unità fa avanzare Il regno dei cieli Estra 3 Versetti 1 9 dice Il popolo si radunò Come un solo uomo Ce lo sarebbe Bellissimo Si radunò come fosse Uno solo Giosuè Suoi figli Sui fratelli E poi c'è una serie di nomi Si misero come un uomo solo A dirigere i lavoratori Nell'impresa Riguardante Il tempio Si può far avanzare Il regno dei cieli Può esserci questa opera Di salvezza La ricostruzione del tempio La salvezza di tutti gli altri Se c'è Unità fra di noi Se lavoriamo Qui dice Si radunò come un solo uomo A Gerusalemme Che bello Che bello Se tutti i gruppi Si volessero bene Ci sarebbe tanto Di quella grazia Di Dio In mezzo a noi Ecco perché Il nemico divide L'unità Da potere Di vincere Il nemico Secondo a Maccabeo Dice Lo stesso Maccabeo Cingendo per primo le armi Esorto gli altri Le sporse Con lui al pericolo Per andare in aiuto Dei loro fratelli Tutti insieme Partirono con coraggio Erano Tutti insieme Partirono Per Per questa missione E mentre si trova Vicino a Gerusalemme Ecco cosa ha fatto L'unità Apparre come un cuoio Tiero davanti a loro Un cavaliere in seda Vestito di bianco In atto dietro Agitare Un armaturatore Questo era L'angelo di Dio Tutti insieme Benedissero Dio Misericordioso E si sentirono Rafforzati in cuore Che erano pronti Ad assediare Non solo gli uomini Ma anche le bestie Di feroci Di muro di ferro Procedevano In ordine Vedete quindi Con un ordine Quando in un gruppo Ognuno tiene il suo posto Non c'è qualcuno Che cerca di scavalcare L'altro Oppure critica l'altro Ognuno Nel suo posto Dice che c'era anche questo Con un alleato Venuto dal cielo Quella misericordia Che il Signore Aveva avuto di loro Perché? Perché erano Uniti Altrimenti Niente misericordia di Dio Niente quest'uomo I nemici Avrebbero vinto Gettatisi come leoni Sui nemici Ne stesero al suolo Undici mila E mille e seicento Cavalieri E tutti gli altri Che costruiscono a fuggire Grande vittoria Sui nemici Ma come si fa a vincere Sui nemici? Bisogna rissare Uniti Uniti C'è poco da fare Finché Finché non ci sarà Unità Non si riuscirà A vincere Fa sperimentare la gioia Concludiamo con questa Quella dell'ultima cosa Filippesi 2.2 Dice Rendete piena la mia gioia Con l'unione Dei vostri spiriti Con la stessa carità Con i menesi Di sentimenti Non fate nulla Per spirito di rivalità Omanagoria Finché in Filippesi Vedete che Ma ciascuno di voi Con tutta umiltà Considerate il superiore A se stesso Senza cercare Il proprio interesse Ma anche quello degli altri Qui San Paolo Scrivendo agli filippesi Dice Volete rendermi la gioia State Uniti Genitori Avete mai visto I vostri figli Mitigare E' bello? Pensate che rendiamo Contento Dio Quando Mitigliamo No Non c'è Gioia in Dio E non c'è neanche Fra i due Criticano Se noi invece Rimaniamo in unità Rendiamo Gioioso Dio E Dio In mezzo a noi E' gioioso E porta gioia Anche a noi E porta gioia Anche a noi Due politiche Non sono mai La gioia Non c'è la grazia Di Dio Non c'è più Dio Non c'è più Dio Quante belle cose Fa l'unità Capite quindi Perché Perché c'è questo qua Il virus Che attacca Avrei dovuto mettere Un'altra faccia Chi è il divisore? Proprio il Diabogolo Dal greco Diabogolo Che significa attraverso E ballo Metto Mi metto attraverso Mi metto in metro Propriamente Separare Mettersi in mezzo Frapporre una maniera Creare Una frattura Qual è il ruolo Del diavolo Quindi Divinere E ascoltate bene Mandate giù la sliva O dopo Il diavolo E in un certo senso Ciascuno di noi Nella misura in cui Le scelte che facciamo E le azioni Che portiamo avanti Fratturano il mondo E ci separano Dalla pienezza Della realtà Tutto ciò Che non porta Benezza Che non porta Cosmo E opera del diavolo Attraverso di noi Tutte le nostre scelte Non devono essere Chissà cosa Anche delle scelte giornaliere Se non portano Armonia Se non portano Unità Sono opera del diavolo Attraverso Noi Quante volte Mi hai conosciuto Quando il diavolo Mi ha usato Per Non tenere Un'unità Per non fare Qualcosa di bello Se Dio Ve lo rivelasse In questo momento Quante volte Siete stati Ho detto Dio Sì Se Dio rivelasse Quante volte Siete stati Stumenti del diavolo Mi spaventeresti Perché è così Perché è così Cioè In qualche modo Tutto quello che Il comprare Una cosa sbagliata Adesso andiamo Proprio nei casi Un vestito Che metti Che attira Che porta divisa Una porta bellezza E già lo perdiamo Il mangiare In un modo sbagliato Il Se volete Il fumare Se volete Qualunque cosa Non crea Armonia Viene da Dio Che cerca di Distruggere la bellezza Per questo Che dobbiamo dire Gesù figlio di Davide Ha Pietà di Non peccatori Perché è dentro di noi Il nostro istinto Non è dell'unità Non è dell'unità Mettiamocelo in testa Per quello che San Paolo deve scrivere Più volte Cercate di conservare La pace E quindi Inmanterrete L'unità Che è Dio Che è Dio Perché ci sono Tante di quelle scelte Tante di quelle cose Che facciamo Tutti i giorni Che non creano Armonia Con il cosmo Con quello che Dio Ha creato Ma Disarmonia Quindi Disunità Leati I provatori di pace Saranno chiamati I figli di Dio Quelli che invece Portano Non la pace Saranno chiamati I figli di Dio Quelli che arrivano E non mettono pace Qua i due Anche le suoci Anche Anche i figli Sono strumento Del diavolo Per dividere I genitori Non è incredibile O i due Sono uniti O i figli Riescono A pecare L'uno L'altro A metterli contro Con l'uno E più buono L'altro E più Guardate che La famiglia Regge Sui genitori Sulla Sulla coppia Non sui genitori Di quanto Genitori Figli Ricordate Che questa cosa È fondamentale L'unità Dei due Fa la famiglia Con i figli Non padre E madre Ma Sposo Che diventano Padre e madre I figli Dividono In qualche modo Sono Inconsapevolmente Strumenti Del diavolo E vino a fermarlo Con il fatto Che i due Dicono Mai chiesto La mamma Mai chiesto Il papà Se uno Dice male Qualcosa Dell'altro No Non te lo permettere Andrebbero sempre Al contrario Come dice Il papà Francesco Che vengono usati Per dividere Sempre dire No Tu devi rispettare L'altro Allora Si mantiene L'unità Allora C'è il cosmo Allora Marito e moglie Sono uniti E anche I figli Ricevono Grazia Vedete che siamo Distanti Dalla grazia Eh Quanto Siamo ancora distanti Quanto è difficile L'unità Viene minata In tutti i modi Marco 14 26 27 Dopo aver cantato L'inno Uscirono E Gesù disse Tutti rimanete Scandalizzati Perché sta scritto Per poterò il pastore E le pecore saranno Dispersi Divise Il diavolo Entrò in Giuda C'è proprio scritto Prese il polcone E la notte Il diavolo Entrò in Giuda Uscite E poi creò Questa divisione Questa frattura Giacomo 3 14 16 Se avete nel vostro cuore Gerosia Amaro Spinto di contesa Non vantatevi Non mentite Non è questa la sapienza Che viene dall'altro Questa è il terreno Carnale Di avoria Poiché dove c'è Gerosia E spirito di contesa C'è l'isorbine E ogni sorta di cattivazione Non è da spiegare La potete capire tutti Dove c'è Gerosia E spirito di contesa E c'è bla 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 C'è quindi Credo che vi siano tra voi Contese Gelosia Irre Malità Malicenze Insinazioni Superbi e tumulti Alla faccia Delle prime comunità cristiane Come ne ama Papa Francesco Credo che fra voi Ci siano Contese Gerosia E' la chiesa di corinthio E' la chiesa di corinthio Corinthio Era la chiesa Più carismatica Che esisteva Infatti poi scriveva Prima corinthio 12 C'è tutto sui carismi Facevano gli altri E tutto andare E se ne dicevano dietro Io Guarisco di più Io Tanto meglio Io Hai visto quello Infatti poi Crollerà tutto Infatti dice Aspirate ai carismi E io indicherò La via più giusta Poi quella dell'amore Bene Preghiamo un pochettino Adesso E' un dono di Dio Appunto Chiediamo Grazie